Dopo aver visto nel tutorial precedente come utilizzare gli array in golang, in questo tutorial vedremo come utilizzare le slice che non sono nient'altro che una forma di array più flessibile e tra virgolette anche più potente Cominciamo a creare una slice molto semplice, quindi numero due punti uguale gli diciamo che deve essere una slice di numeri interi andiamo ad inserire i numeri interi, tutti i numeri pari da qui al 10, quindi 2,4,6,8,10 dobbiamo andare a stampare, println numero e come vedete ci ritorna i numeri, vogliamo stampare solamente il numero 4 gli diciamo numero 2 punti 1 perché si parte a contare dallo 0, quindi 0,1, quindi così dovrebbe ritornarci il 4 esattamente vogliamo prendere solo i numeri presenti dalla posizione 1 alla posizione 3 basta appunto mettere 1,2,3 e come vedete ci ritorna il 4, il 6, quindi 1,2 e ovviamente non l'8 perché l'8 è nella posizione 4 se vogliamo aggiungere un valore basta fare numero se vogliamo aggiungere un valore la cosa più scontata da fare in base a quanto abbiamo visto nella creazione degli array sarebbe fare aggiungere la posizione 0,1,2,3,4 la posizione 5 il numero 12 ma se andiamo a vedere probabilmente ci ritorna errore runtime error index out of range ci dice che è fuori dal range dell'integer per farlo dobbiamo invece utilizzare il comando append quindi numero uguale app append gli ripassiamo la variabile numero virgola gli passiamo il numero 12 e guardiamo se così la prende e infatti così l'ha presa quindi ora vi starete domandando perché con append ha aggiunto il numero alla nostra slice mentre con il comando di prima ovvero andiamo a ricostruirlo posizione 5 uguale numero 12 invece non l'ho appreso scusate dovremmo togli due punti runtime error index out of range questo perché? lo andiamo a vedere subito usando il comando cut intanto cancelliamo un attimo questo mettiamo il valore cap ok quindi mettiamo cap numero cap credo che sia per capacity quindi la capacità di contenere la capacità di contenimento della size che abbiamo creato stampiamo e ci ritorna capacity 5 quindi 1 2 3 4 5 valori ora ricreiamo il comando append di prima numero uguale append numero virgola avevamo detto che abbiamo messo il numero 12 torniamo a stamparlo e invece ce l'ha preso quindi andiamo a contare i valori che abbiamo ora nell'array 1 2 3 4 5 6 quindi abbiamo un array che ha dimensione 6 valori andiamo a rimettere il comando cap e vediamo che valore ci torna se prima ci abbia tornato 5 ora è scontato che ci torni 6 invece ci torna 12 questo perché lui non ha fatto nient'altro che duplicare la dimensione dell'array in base al numero che abbiamo aggiunto quindi abbiamo aggiunto il valore 6 e quindi lui l'ha duplicato a 12 quindi ha creato altre nuove 12 posizioni per intenderci se qua avevamo 12 qua mettiamo il 14 ci dovrebbe tornare 12 posizioni 12 posizioni quindi qua mettiamo 26 quindi qua mettiamo 26 praticamente dovrebbe tornarci 24 come vedete praticamente la dimensione e la capacità della slice si duplica si doppia in automatico tutte le volte che raggiunge il limite definito prima ma questo lo capiremo meglio usando il comando make quindi cancelliamo tutto creiamo di nuovo la nostra variabile numero uguale usiamo il comando make anche qui diciamo che deve essere una slice di numeri interi e gli diciamo che deve avere per dimensione 5 come era prima ora possiamo andarla a popolare qua si possiamo popolarla come come nella come si fa solitamente con gli array quindi make nice 1 4 posizione 3 diventa 8 2 4 6 8 ok ok quindi 1 2 3 4 5 come vedete abbiamo il nostro comando 5 andiamo a vedere la capienza la capacità mettiamo il comando run e appunto abbiamo 5 proviamo come prima ad aggiungere una posizione in più mettiamo 12 e anche qui dovrebbe quindi tornarci errore esattamente invece proviamo tramite l'append numero uguale append numero virgola 12 invia e lui automaticamente ci ha duplicato la dimensione della della slice per capire ancora meglio la logica dietro questo questa capacità delle slice di golang torniamo alla nostra prima riga qua il comando make appunto abbiamo detto che deve essere un integer e che deve essere avere una lunghezza di 5 elementi ma oltre a lunghezza di 5 elementi possiamo possiamo definire anche la capacità inserendo un doppio valore quindi se la lunghezza deve essere 5 possiamo dirgli che deve avere una capacità di 10 quindi qua abbiamo definito i primi 4 i primi 5 elementi proviamo comunque a salvarne uno dicendogli di salvare qualcosa nella posizione 5 e ci torna errore ritorniamo ad aggiungerglielo tramite l'append prima quando aggiungevamo tramite l'append ci diceva che aveva una capacità quindi di 12 e invece adesso ci dice che ha una capacità di 10 quindi fino a 10 elementi aggiunti non la slice non duplicherà la sua capacità proviamo comunque a testarlo quindi 12, 14, 16 18 20 quindi abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 10 lanciamo e come vedete è rimasto all'interno della capacità 10 proviamo ad aggiungere un altro valore di 2 e come vedete aggiungendogli l'undicesimo valore sforiamo la quantità 10 la capacità 10 e quindi lui in automatico ha duplicato la sua capacità a 20 e ovviamente se andiamo a riempirlo possiamo quindi aggiungere elementi fino a 40 adesso noi per comodità duplichiamo questi e come vedete lui si è duplicato a 40 ha duplicato la sua capacità a 40 so che all'inizio sembra un po' confusionaria come situazione ma credo che questo esempio nonostante il mio balbettio renda bene l'idea di come funzionino le slicing golang è sicuramente che 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 che